Risultato storico per il centrodestra alle elezioni del Consiglio Provinciale di Pesaro-Urbino con la lista La Nuova Provincia.pu che ha ottenuto 7.000 voti ponderati in più rispetto alla lista di centrosinistra La Casa dei Comuni Provinciali 2024. Prevalenza che porta però ad un pareggio attraverso la distribuzione dei seggi con sistema proporzionale. Sono stati infatti eletti sei consiglieri provinciali per ciascuna lista. Determinante dunque sarà il voto di domani del presidente della provincia in carica di centrosinistra Giuseppe Paolini. A votare gli amministratori della provincia fra sindaci, assessori e consiglieri. A recarsi alle urne sono stati 540 amministratori su 656 a 20 diritto con un'affluenza dell'82,3%. La lista di centrosinistra La Casa dei Comuni Provinciali 2024 ha ottenuto 42.150 voti ponderati. Il maggior numero di preferenze è andato al vice sindaco di Mercatello sul Metauro, Gabriele Giovannini, eletto assieme all'assessora di Fossombrone Laura Giombini. Al consigliere comunale di Urbino Reano Giovannelli, alla consigliera comunale di Pesaro Anna Maria Mattioli, al sindaco di Vallefoglia Palmi Rucchielli e al sindaco di Mercatino Conca Omar Lavanna. La lista di centrodestra La Nuova Provincia Punto Più ha ottenuto invece 48.966 voti ponderati. Maggior numero di preferenze è andato al sindaco di Pian di Meleto, Nicolo Pierini, eletto assieme alla consigliera comunale di Mercatello sul Metauro, Fernanda Sacchi, al sindaco di Fano, Luca Serfilippi, al sindaco di San Costanzo, Domenico Carbone, al sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi e al consigliere comunale di Pesaro, Daniele Malandrino. Per il centrodestra un mix di sentimenti, da un lato un risultato mai raggiunto prima in provincia, dall'altro il rammarico perché è mancato appena un centinaio di voti per il settimo seggio. Siamo molto soddisfatti, è un risultato storico, per la prima volta il centrodestra è in vantaggio e anche con notevoli punti rispetto al centrosinistra, è un dato politico importantissimo anche in previsione delle prossime elezioni regionali, questo è il frutto di un ottimo lavoro fatto dai nostri sindaci, i nostri consiglieri comunali e anche da tutti i partiti che hanno preparato al meglio questa competizione elettorale, quindi siamo sicuramente soddisfatti. Purtroppo il metodo Don't non ci ha premiato con il settimo consigliere, però questo è un dato politico veramente rilevante. C'è un po' comunque di rammarico visto che non è scattato proprio per un centinaio di punti, ecco bastava una scheda rossa. Assolutamente sì, c'è forte rammarico, però bisogna anche essere contenti e consapevoli del lavoro che è stato fatto, quindi non possiamo incolpare nessuno, ma solamente fare i complimenti anche a tutte le persone che sono venute a votare e ai nuovi eletti in consiglio provinciale. Sentimenti particolari anche per il centrosinistra che subisce la rimonta degli avversari, ma scongiura il ribaltone e di fatto mantiene un piccolo vantaggio attraverso il presidente Paolini. È veramente un passaggio da consigliere comunale, anche consigliere provinciale, mi dà la possibilità di allargare un pochino la visione, perché fino ad oggi abbiamo e ci siamo anche personalmente interessate per quanto riguarda tutte le tematiche della città, mentre adesso allargo un pochino lo sguardo alla provincia, che penso sia un arricchimento anche a livello politico, anche a livello civico, e cercherò di portare avanti tutte le tematiche come ho sempre fatto fino ad oggi. Per noi è un risultato molto positivo, anche perché c'era appunto il rischio che ci fosse un sorpasso, eravamo pronti anche a questo, invece c'è stato appunto il voto del presidente che ci ha dato forza, e avere comunque un consiglio provinciale in parità, anche se il presidente è chiaramente del centro-sinistra, però ci darà la possibilità, io me lo auguro, di lavorare insieme per il bene della provincia, mettendo da parte anche un pochino di personalismo e anche di troppa politica che a volte non ci aiuta.